Apocalisse di Giovanni, capitolo primo. La rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli ha data per mostrare ai Suoi servitori le cose che debbono avvenire in breve. Ed Egli l'ha fatta conoscere, mandandola per mezza del Suo angelo, al Suo servitore Giovanni, il quale ha attestato la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, tutto ciò che Egli ha veduto. Beato chi legge, e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia, e servano le cose che sono scritte in essa, poiché il tempo è vicino. Giovanni ha le sette chiese che sono nell'Asia. Grazie a voi, e pace da colui che è, che era e che viene, e dai sette spiriti che sono davanti al Suo trono, e da Gesù Cristo, il fedel testimone, il primogenito dei morti, e il principe dei re della terra, a Lui che ci ama, e ci ha liberati dai nostri peccati col Suo sangue, e ci ha fatti essere un regno e sacerdoti all'Iddio e Padre Suo, a Lui siano la gloria e l'imperio dei secoli dei secoli. Amen. Ecco, Egli viene con le nuvole, ed ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per Lui. Sì. Amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore, il Dio che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Io, Giovanni, vostro fratello, e partecipe con voi della tribolazione, del regno e della costanza in Gesù, ero nell'isola chiamata Patmo, a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui rapito in spirito nel giorno di domenica, e udì dietro a me una gran voce, come d'una tromba che diceva, quel che tu vedi scrivelo in un libro, e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia, e all'Odicea. E io mi voltai per vedere la voce che mi parlava, e come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai candelabri, uno similiante a un figlio al duomo, vestito d'una veste lunga fino ai piedi, e cinto d'una cintura d'oro all'altezza del petto. E il suo capo, e i suoi capelli erano bianchi come candi da lana, come neve, e i suoi occhi erano come fiamma di fuoco, e i suoi piedi erano simili a terzo rame arroventato in una fornace, e la sua voce era come la voce di molte acque. Ed egli teneva nella sua mandestra sette stelle, e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli acuta, e il suo volto era come il sole quando splende nella sua forza. E quando l'ebbi veduto cadde ai suoi piedi come morto. Ed egli mise la sua mandestra su di me, dicendo, Non temere, io sono il primo e l'ultimo, e il vivente, E fui morto, ma ecco, son vivente per i secoli dei secoli, E tengo le chiavi della morte e dell'Hades. Scrivi dunque le cose che hai vedute, Quelle che sono e quelle che devono avvenire in appresso. Il mistero delle sette stelle che hai vedute nella mia destra E dei sette candelabri d'oro Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, E i sette candelabri sono le sette chiese. Apocalisse, capitolo secondo E all'angelo della chiesa d'Efeso scrivi Queste cose, dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra, E che cammina in mezzo ai candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza, E che non puoi sopportare i malvagi, E hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, E non lo sono, e li hai trovati mendaci, E hai costanza, e hai sopportato molte cose per amore del mio nome, E non sei mai stancato. Ma ho questo contro di te, Che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque non desè caduto e ravvediti, E fa le opere di prima, Se no, verrò tosto a te, E rimoverò il tuo candelabro dal suo posto, Se tu non ti ravvedi. Ma tu hai questo, Che odi le opere dei Nicolaiti, Le quali odio anch'io. Chi ha orecchio, Ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, Io darò a mangiare dell'albero della vita Che sta nel paradiso di Dio. E all'angelo della chiesa di Smirne scrivi, Queste cose, dice il primo e l'ultimo, Che fu morto e tornò in vita. Io conosco la tua tribolazione, La tua povertà, Ma pur sei ricco, E le calugnie lanciate da quelli Che dicono d'essere giudei e non lo sono, Ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quel che avrai da soffrire, Ecco, il diavolo sta per cacciare, Alcuno di voi in prigione, Perché siete provati, E avrete una tribolazione di dieci giorni. Sii fedele fino alla morte, E ti darò la corona della vita. Chi ha orecchio, Ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà appunto offeso Dalla morte seconda. E all'angelo della chiesa di Pergamo scrivi, Queste cose, dice colui che ha la spada acuta a due tagli, Io conosco dove tu abiti, Cioè laddove è il trono di Satana, Eppure tu ritieni fermamente il mio nome, E non rinnegasti la mia fede, E neppure nei giorni in cui Antipa, Il mio fedeo testimone, Fu ucciso fra voi dove abita Satana. Ma ho alcune poche cose contro di te, Cioè che tu hai quivi di quelli Che professano la dottrina di Balaam, Il quale insegnava a Balak Di imporre un intoppo davanti ai figlioli di Israele, Inducendoli a mangiare delle cose sacrificate agli idoli e a fornicare. Così hai anche tu di quelli Che in simil guisa professano la dottrina dei ricolaiti. Ravvediti dunque, Se no, verrò tosto a te E combatterò contro a loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchio, Ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, A chi vince io darò della manna nascosta, E gli darò una pietruzza bianca, E sulla pietruzza ha scritto un nome nuovo Che nessuno conosce, Se non colui che lo riceve. E all'angelo della chiesa di Tiatiri scrivi, Queste cose dice il figliuol di Dio, Che ha gli occhi come fiamma di fuoco, E i cui piedi sono come terzo rame. Io conosco le tue opere, E il tuo amore, E la tua fede, E il tuo ministerio, E la tua costanza, E che le tue opere ultime Sono più abbondanti delle prime. Ma ho questo contro a te, Che tu tolleri quella donna Jezabel, Che si dice profetessa, E insegna e seduce i miei servitori Perché commettano fornicazione, E mangino cose sacrificate agli idoli. Io le ho dato tempo di ravvedersi, Ed ella non vuol ravvedersi Dalla sua fornicazione. Ecco, Io getto lei sopra un letto di dolore, E quelli che commettono adulterio con lei, In una gran tribolazione, Se non si ravvedano delle opere d'essa. E metterò a morte i suoi figlioli, E tutte le chiese conosceranno, Che io son colui che investigo le reni e dei cuori, E darò a ciascuno di voi secondo le opere vostre. Ma gli altri di voi intiatiri, Che non professate questa dottrina, E non avete conosciuto le profondità di Satana, Come le chiamano loro, Io dico, Io non vi impongo altro peso, Soltanto quel che avete, Tenetelo fermamente finché io venga, E a chi vince e persevera nelle mie opere, Sino alla fine, Io darò podestà sulle nazioni, Ed egli le reggerà con una verga di ferro, Frantumandole a mod di vasi d'argilla, Come anch'io ho ricevuto podestà dal Padre mio, E gli darò la stella mattutina, Che a orecchio ascolti Ciò che lo Spirito dice alle chiese. Apocalisse, capitolo terzo E all'angelo della chiesa di Sardi scrivi, Queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio E le sette stelle. Io conosco le tue opere, Tu hai nome di vivente, E sei morto. Sii vigilante, E rafferma il resto che sta per morire, Poiché non ho trovato le opere tue compiute Nel cospetto del mio Dio. Ricordati dunque di quanto hai ricevuto e udito, E serbalo e ravvediti, Che se tu non vegli, Io verrò come un ladro, E tu non saprai A quale ora verrò su di te. Ma tu hai alcuni pochi in Sardi, Che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno meco in vesti bianche, Perché ne sono degni. Chi vince sarà così vestito di vesti bianche, Ed io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, E confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio, E nel cospetto dei suoi angeli. Chi ha orecchio, Ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E all'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi, Queste cose dice il Santo, Il Verace, Colui che ha la chiave di Davide, Colui che apre e nessuno chiude, Colui che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, io ti ho posta dinnanzi una porta aperta, Che nessuno può chiudere, Perché, pur avendo poca forza, Hai serbata la mia parola, E non hai rinnegato il mio nome. Ecco, io ti do di quelli della sinagoga di Satana, I quali dicono d'essere giudei, E non lo sono, ma mentiscono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi dinnanzi ai tuoi piedi, E conosceranno che io t'ho amato. Perché tu hai serbata la parola della mia costanza, Anch'io ti guarderò dall'ora del cimento Che ha da venire su tutto il mondo Per mettere alla prova quelli che abitano sulla terra. Io vengo tosto, Tieni fermamente quello che hai, Affinché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, Io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, Ed egli non ne uscirà mai più, E scriverò su di lui il nome del mio Dio, E il nome della città del mio Dio, Della nuova Gerusalemme, Che scende dal cielo da presso all'Idio mio, Ed il mio nuovo nome. Chi ha orecchio, Ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi, Queste cose dice l'Amen, Il testimone fedele e verace, Il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente! Così perché sei tiepido, E non sei né freddo né fervente, Io ti vomiterò dalla mia bocca. Poiché tu dici, Io sono ricco, E mi sono arricchito, E non ho bisogno di nulla, E non sai che tu sei infelice fra tutti, E miserabile, E povero, E cieco, E nudo. Io ti consiglio di comprare da me E dell'oro affinato col fuoco, Affinché tu arricchisca, E delle vesti bianche, Affinché tu ti vesta, E non apparisca la vergogna Della tua nudità, E del collirio per ungerti negli occhi, Affinché tu vegga. Tutti quelli che amo, Io li riprendo e li castigo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Ecco, Io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce, Ed apre la porta, Io entrerò da lui, E cenerò con lui, Ed egli meco. A chi vince, Io darò di seder meco sul mio trono, Come anch'io ho vinto, E mi son posto a sedere col Padre mio Sul suo trono. Chi ha orecchio, Ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Apocalisse, capitolo quarto. Dopo queste cose, Io vidi ed ecco una porta aperta nel cielo, E la prima voce che avevo dita a parlante meco a guisa di tromba, Mi disse, Sali qua, Ed io ti mostrerò le cose che debbono avvenire da ora innanzi. E subito fui rapito in spirito, Ed ecco un trono era posto nel cielo, E sul trono vera uno a sedere, E colui che sedeva era nell'aspetto simile a una pietra di diaspro e di sardonico, E attorno al trono c'era un arcobaleno che, A vederlo, Somigliava uno smeraldo. E attorno al trono c'erano ventiquattro troni, E sui troni sedevano ventiquattro anziani, Vestiti di bianche vesti, E avevano sui loro capi delle corone d'oro. E dal trono procedevano lampi e voci e tuoni. E davanti al trono c'erano sette lampade ardenti, Che sono i sette spiriti di Dio. E davanti al trono c'era come un mare di vetro, Simile al cristallo. E in mezzo al trono e attorno al trono, Quattro creature viventi, Piene d'occhi davanti e di dietro. E la prima creatura vivente era simile a un leone. E la seconda simile a un vitello. E la terza aveva la faccia come d'un uomo. E la quarta era simile a un'aquila volante. E le quattro creature viventi avevano ognuna sei ali, Ed erano piene d'occhi all'intorno e di dentro, E non restava mai giorno e notte di dire, Santo, santo, santo è il Signore lì Dio, L'Onnipotente, che era, che è e che viene. Ed ogni volta che le creature viventi Rendevano gloria e onore e grazie a Colui che siede sul trono, A Colui che vive nei secoli dei secoli, I ventiquattro anziani si prostraravano davanti a Lui Che si siede sul trono, E adorano Colui che vive nei secoli dei secoli, E gettano le loro corone davanti al trono, Degno sei, o Signore, e i Dio nostro, Di ricevere la gloria e l'onore e la potenza, Poiché Tu creasti tutte le cose, E per la Tua volontà esistettero e furono create. Apocalisse, capitolo quinto E vidi nella destra di Colui che sedeva sul trono Un libro scritto di dentro e di fuori, Sigillato con sette suggelli, E vidi un angelo potente, E che bandiva con gran voce, Chi è degno d'aprire il libro e di romperne i suggelli? E nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, Poteva aprire il libro o guardarlo. Ed io piangevo forte perché non c'era trovato nessuno Che fosse degno di aprire il libro o di guardarlo. E uno degli anziani mi disse, Non piangere, Ecco, il leone che è della tribù di Giuda, Il rampollo di Davide ha vinto per aprire il libro E i suoi sette suggelli. Poi vidi, In mezzo al trono e alle quattro creature viventi, E in mezzo agli anziani, Un agnello in piedi, Che pareva essere immolato, Ed aveva sette corna e sette occhi, Che sono i sette spiriti di Dio, Mandati per tutta la terra. Ed esso venne, E prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. E quando ebbe preso il libro, Le quattro creature viventi, E i ventiquattro anziani, Si prostrarono davanti all'agnello, Avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro, Piene di profumi che sono le preghiere dei santi. E cantavano un nuovo cantico, Dicendo, Tu sei degno di prendere il libro, Ed aprirne i sugelli, Perché sei stato immolato, E hai comprato a Dio col tuo sangue, Gente d'ogni tribù, E lingua, E popolo, E nazione, E ne hai fatto per il nostro Dio Un regno, E dei sacerdoti, E regneranno sulla terra. E vidi, Ed udì una voce di molti angeli intorno al trono, E alle creature viventi, E agli anziani, E il numero loro era di miriadi, Di miriadi, E di migliaia, Di migliaia, Che dicevano con gran voce, Degno è l'agnello che è stato immolato Di ricever la potenza, E le ricchezze, E la sapienza, E la forza, E l'onore, E la gloria, E la benedizione. E tutte le creature che sono nel cielo, E sulla terra, E sotto la terra, E sul mare, E tutte le cose che sono in essi, E le udì che dicevano, A colui che siede sul trono, E all'agnello, Siano la benedizione, E l'onore, E la gloria, E l'impero, Dei secoli, Dei secoli. E le quattro creature viventi dicevano, Amen, E gli anziani si prostrarono, E adorarono. Apocalisse, Capitolo, Sesto Poi vidi, Quando l'agnello ebbe aperto uno dei sette suggelli, E udì una delle quattro creature viventi, Che diceva con voce come di tuono, Vieni, E vidi, Ed ecco un cavallo bianco, E colui che lo cavalcava aveva un arco, E gli fu data una corona, Ed egli uscì fuori da vincitore, E per vincere. E quando ebbe aperto il secondo suggello, E udì la seconda creatura vivente, Che diceva, Vieni, E uscì fuori un altro cavallo rosso, E a colui che lo cavalcava fu dato di toglierla pace dalla terra, Affinché gli uomini si uccidessero gli un gli altri, E gli fu data una grande spada. E quando ebbe aperto il terzo suggello, Io udì la terza creatura vivente, Che diceva, Vieni, Ed io vidi, Ed ecco un cavallo nero, E colui che lo cavalcava, Aveva una bilancia in mano, E udì come una voce in mezzo alle quattro creature viventi, Che diceva, Una ceniche di frumento per un denaro, E tre cenici d'orzo per un denaro, E non danneggiare né l'olio né il vino. E quando ebbe aperto il quarto suggello, Io udì la voce della quarta creatura vivente, Che diceva, Vieni, Ed io vidi, Ed ecco un cavallo giallastro, E colui che lo cavalcava, Aveva nome la morte, E gli teneva dietro l'Hades, E fu loro dato podestà sopra la quarta parte della terra, Di uccidere con la spada, Con la fame, E con la mortalità, E con le fiere della terra. E quando ebbe aperto il quinto suggello, Io vidi sotto l'altare le anime di quelli Che erano stati uccisi per la parola di Dio E per la testimonianza che avevano resa, E gridarono con gran voce, Dicendo, Fino a quando, O nostro Signore che sei santo e verace, Non fai tu giudizio, E non vendichi il nostro sangue Su quelli che abitano sopra la terra? E a ciascun dessi fu data una veste bianca, E fu loro detto che si riposassero ancora Per un po' di tempo, Finché fosse completo il numero Dei loro conservi e dei loro fratelli, Che hanno ad essere uccisi come loro. Poi vidi quando ebbe aperto il sesto suggello, E si fece un gran terremoto, E il sole divenne nero come il cilicio di crine, E tutta la luna diventò come sangue, E le stelle del cielo caddero sulla terra Come quando un fico scosso da un gran vento Lascia cadere i suoi fichi immaturi, E il cielo si ritrasse come una pergamena Che si arrotola, E ogni montagna e ogni isola Fu rimossa dal suo luogo. E i re della terra, E i grandi, E i capitani, E i ricchi, E i potenti, Ed ogni servo, Ed ogni libero, Si nascossero nelle spelonche Nelle rocche dei monti, E dicevano ai monti e alle rocce, Cadetici addosso, E nascondetici dal cospetto Di colui che siede sul trono, E dall'ira dell'agnello, Perché è venuto il gran giorno della sua ira, E chi può reggere in pie? Apocalisse, Capitolo settimo Dopo questo, Io vidi i quattro angeli Che stavano in pie Ai quattro canti della terra, Ritenendo i quattro venti della terra, Affinché non soffiasse vento alcuno sulla terra, Né sopra il mare, Né sopra alcun albero. E vidi un altro angelo Che saliva dal sol levante, Il quale aveva il suggello Del Dio vivente, Ed egli gridò con gran voce Ai quattro angeli, Ai quali era dato di danneggiare la terra, E il mare, Dicendo, Non danneggiate la terra, Né il mare, Né gli alberi, Finché abbian segnato in fronte col suggello I servitori dell'Idio nostro. E udì il numero dei segnati, Centoquarantaquattro mila segnati Di tutte le tribù dei figliuoli di Israele. Della tribù di Giuda, Dodicimila segnati, Della tribù di Ruben, Dodicimila, Della tribù di Gad, Dodicimila, Della tribù di Aser, Dodicimila, Della tribù di Neftali, Dodicimila, Della tribù di Menasse, Dodicimila, Della tribù di Simeon, Dodicimila, Della tribù di Levi, Dodicimila, Della tribù di Issachar, Dodicimila, Della tribù di Zabulon, Dodicimila, Della tribù di Giuseppe, Dodicimila, della tribù di Beniamino, dodicimila segnati. Dopo queste cose vidi, ed ecco una gran folla che nessun uomo poteva noverare, di tutte le nazioni e tribù e popoli e lingue, che stavano in pie davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di veste bianche e con delle palme in mano, e gridavano con gran voci, dicendo, La salvezza appartiene all'Idio nostro, il quale siede sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli stavano in pie attorno al trono, e gli anziani e le quattro creature viventi, essi prostrarono sulle loro facce davanti al trono e adorarono il Dio, dicendo, Amen, all'Idio nostro la benedizione e la gloria e la sapienza e le azioni di grazie e l'onore la potenza e la forza, nei secoli dei secoli, Amen. E uno degli anziani mi rivolse la parola, dicendomi, Questi che sono vestiti di vesti bianche, chi sono dessi, e donde sono venuti? Ed io gli risposi, Signor mio, Tu lo sai. Ed egli mi disse, Essi sono quelli che vengono dalla gran tribolazione, e hanno lavato le loro vesti, e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Perciò sono davanti al trono di Dio, e gli servono giorno e notte nel suo tempio, e colui che siede sul trono spiegherà su loro la sua tenda, e non avranno più fame, e non avranno più sete, e non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pasturerà, e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e il Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro. Apocalisse, capitolo ottavo E quando l'agnello ebbe aperto il settimo suggello, si fece silenzio nel cielo per circa lo spazio di mezz'ora. E io vidi i sette angeli che stavano in piede davanti a Dio, e furon date loro sette trombe. E un altro angelo venne, e si fermò presso l'altare, avendo un turribolo d'oro, e gli furon dati molti profumi affinché li unissi alle preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro che era davanti al trono. E il fumo dei profumi, unendosi alle preghiere dei santi, salì dalla man dell'angelo al cospetto di Dio. Poi l'angelo prese il turribolo, e l'empì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra, e ne seguirono tuoni e voci e lampi e un terremoto. E i sette angeli che avevano le sette trombe si prepararono a suonare. E il primo suonò. E vi fu grandine, e fuoco mescolati con sangue che furon gettati sulla terra. E la terza parte della terra fu arsa, e la terza parte degli alberi fu arsa, e ogni erba verde fu arsa. Poi suonò il secondo angelo. E una massa simile ad una gran montagna ardente fu gettata nel mare. E la terza parte del mare divenne sangue. E la terza parte delle creature viventi che erano nel mare morì. E la terza parte delle navi perì. Poi suonò il terzo angelo. E cadde dal cielo una grande stella ardente come una torcia, e cadde sulla terza parte dei fiumi e sulle fonti delle acque. E il nome della stella è assenzio. E la terza parte delle acque divenne assenzio. E molti uomini morirono a cagione di quelle acque, perché erano divenute amare. Poi suonò il quarto angelo. E la terza parte del sole fu colpita, e la terza parte della luna, e la terza parte delle stelle, affinché la loro terza parte si oscurasse, e il giorno non risplendesse per la sua terza parte, e lo stesso avvenne della notte. E guardai, e udì un'aquila che volava in mezzo al cielo, e diceva con gran voce, Guai, guai, guai a quelli che abitano sulla terra, a cagione degli altri suoni di tromba dei tre angeli che debbono ancora suonare. Apocalisse, capitolo nono. Poi suonò il quinto angelo. Ed io vidi una stella caduta dal cielo sulla terra, e ad essa fu data la chiave del pozzo dell'abisso, ed egli aprì il pozzo dell'abisso, e dal pozzo salì un fumo simile al fumo di una grande fornace, e il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del pozzo, e dal fumo uscirono sulla terra delle locuste, e fu dato loro il potere pari al potere che hanno gli scorpioni della terra. E fu loro detto di donna danneggiare l'erba della terra, né alcuna verdura, né albero alcuno, ma soltanto gli uomini che non avevano il sugello di Dio in fronte. E fu loro dato non di ucciderli, ma di tormentarli per cinque mesi, e il tormento che cagionavano era come quello prodotto da uno scorpione quando ferisce un uomo. E in quei giorni gli uomini cercheranno la morte e non la troveranno, e desidereranno di morire, e la morte fuggirà da loro. E nella forma di locuste erano simili a cavalli pronti alla guerra, e sulle teste avevano come delle corone simili ad oro, e le loro facce erano come facce di uomini, e avevano dei capelli come capelli di donne, e i denti erano come denti di leoni, e avevano degli usberghi come usberghi di ferro, e il rumore delle loro ali era come il rumore di carri tirati da molti cavalli correnti alla battaglia. E avevano delle code come quelle degli scorpioni, e degli aculei, e delle code stavano al loro potere di danneggiare gli uomini per cinque mesi, e avevano come re sopra di loro l'angelo dell'abisso, il cui nome, in ebraico, è Abaddon, e in greco Apollion. E il primo guaio è passato. Ecco, vengono ancora due guai dopo queste cose. Poi il sesto angelo suonò, ed io di una voce delle quattro corna dell'altare d'oro che era davanti a Dio, la quale diceva al sesto angelo che aveva la tromba, sciogli i quattro angeli che sono legati sul fiume Eufrate, e furono sciolti i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora, per quel giorno e mese e anno, per uccidere la terza parte degli uomini. E il numero degli eserciti della cavalleria erano di venti migliaia di decine di migliaia. Io udì il loro numero. Ed ecco come mi apparvero nella visione i cavalli e quelli che li cavalcavano. Avevano degli usberghi di fuoco e di giacinto e di zolfo, e le teste dei cavalli erano come teste di leoni, e dalle loro bocche usciva fuoco e fumo e zolfo, e da queste tre piaghe, dal fuoco o dal fumo e dal zolfo che usciva dalla loro bocca, fu uccisa la terza parte degli uomini, perché il potere dei cavalli era nella loro bocca e nelle loro code, poiché le loro code erano simili a serpenti e avevano delle teste, e con esse danneggiavano. E il resto degli uomini che non furono uccisi da quelle piaghe non si ravvidero delle opere delle loro mani, sì da non adorare più i demoni e gli idoli d'oro e d'argento e di rame e di pietre e di legno, i quali non possono né vedere né udire né camminare. E non si ravvidero dei loro omicidi né delle loro malie né delle loro fornicazioni né dei loro furti. Apocalisse capitolo decimo Poi vidi un altro angelo potente che scendeva dal cielo avvolto in una nuvola. Sopra il suo capo era l'arco baleno, la sua faccia era come il sole, e i suoi piedi come colonne di fuoco, e aveva in mano un libretto aperto, ed egli posò il suo piedestro sul mare, e il sinistro sulla terra, e gridò con gran voce nel modo che rugge leone, e quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire le loro voci, e quando i sette tuoni ebbero fatto udire le loro voci, io stavo per scrivere, ma udì una voce dal cielo che mi disse, suggella le cose che i sette tuoni hanno preferite, e non le scrivere. E l'angelo, che io aveva veduto stare in pie sul mare e sulla terra, levò la man destra dal cielo, e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, il quale ha creato il cielo e le cose che sono in esso, e la terra e le cose che sono in essa, e il mare e le cose che sono in esso, che non ci sarebbe più indugio, ma che nei giorni della voce del settimo angelo, quando egli sonerebbe, si compirebbe il mistero di Dio, secondo che egli ha annunziato ai suoi servitori, i profeti. E la voce che io aveva udita dal cielo mi parlò di nuovo e disse, va, prendi il libro che è aperto in mano all'angelo che sta in pie sul mare e sulla terra. E io andai dall'angelo dicendogli di darmi il libretto, ed egli mi disse, prendilo e divoralo. Esso sarà amaro nelle tue viscere, ma in bocca ti sarà dolce come miele. Presi il libretto di mano all'angelo, e lo divorai, e mi fu dolce in bocca come miele. Ma quando l'ebbi divorato, le mie viscere sentirono amarezza. E mi fu detto, bisogna che tu profetizzi di nuovo sopra molti popoli e nazioni e lingue e re. Apocalisse, capitolo undicesimo Poi mi fu data una canna simile a una verga, e mi fu detto, levati e misura il tempio di Dio e l'altare, e novera quelli che vi adorano. Ma tralascia il cortile che è fuori del tempio, e non lo misurare, perché esso è stato dato ai gentili, e questi calpesteranno la santa città per quarantadue mesi, e io darò ai miei due testimoni di profetare, ed essi profeteranno per mille duecentosessanta giorni vestiti di ciliscio. Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno nel cospetto del Signore della terra, e se alcuno li vuole offendere, esce dalla loro bocca un fuoco che divora i loro nemici, e se alcuno li vuole offendere, bisogna che i sia ucciso in questa maniera. Essi hanno il potere di chiudere il cielo onde non cada pioggia durante i giorni della loro profezia, e hanno podestà sulle acque di convertirla in sangue, podestà di percuotere la terra di qualunque piaga quante volte vorranno, e quando avranno compiuta la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso muoverà loro guerra e li vincerà e li ucciderà, e i loro corpi morti giaceranno sulla piazza della grande città che spiritualmente si chiama Sodoma d'Egitto, dove anche il Signor loro è stato crocifisso, e gli uomini dai vari popoli e tribù e lingue e nazioni vedranno i loro corpi morti per tre giorni e mezzo, e non lasceranno che i loro corpi morti siano posti in un sepolcro, e gli abitanti della terra si rallegreranno di loro e faranno festa e si manderanno regale l'un agli altri, perché questi due profeti avranno tormentati gli abitanti della terra. E in capo ai tre giorni e mezzo uno spirito di vita precedente da Dio entrerà in loro, ed essi si drizzeranno in pie, e grande spavento cadde su quelli che li videro, ed essi udirono una gran voce dal cielo che diceva loro, salite qua, ed essi salirono al cielo nella nuvola, e i loro nemici li videro, e in quell'ora si fece un gran terremoto, e la decima parte della città cadde, e settemila persone furono uccise dal terremoto, e il rimanente fu spaventato e dette gloria lì Dio del cielo, e il secondo guaio è passato, ed ecco il terzo guaio verrà tosto. Ed il settimo angelo suonò, e si fecero gran voci nel cielo che dicevano, il regno del mondo è venuto ad essere del Signor nostro e del suo Cristo, ed Egli regnerà nei secoli dei secoli. E ventiquattro anziani seduti nel cospetto di Dio sui loro troni, si gettarono giù sulle loro facce e adorarono il Dio, dicendo, Noi ti ringraziamo, o Signore, e Dio onnipotente che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai assunto il regno. Le nazioni s'erano adirate, ma l'ira tua è giunta, ed è giunto il tempo di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servitori, i profeti, e ai santi, e a quelli che temono il tuo nome, e piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. È il tempio di Dio che nel cielo fu aperto, e si vide nel suo tempio l'arca del suo patto, e vi furon lampi, e voci, e tuoni, e un terremoto, e una forte gragnola. Apocalisse, capitolo dodicesimo Poi apparve un gran segno nel cielo. Una donna rivestita del sole, con la luna sotto i piedi, e sul capo una corona di dodici stelle. Ella era incinta e gridava nelle doglie tormentose del parto. E apparve un altro segno nel cielo. Ed ecco un gran dragone rosso, che aveva sette teste e dieci corna, e sulle teste sette diademi, e sulla coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo, e le gettò sulla terra. E il dragone si fermò davanti alla donna che stava per partorire, al fin di divorarne il figliuolo quando l'avrebbe partorito. Ed ella partorì un figliuolo maschio, che ha da reggere tutte le nazioni con verga di ferro. E il figliuolo di lei fu rapito presso a Dio e al suo trono. E la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, affinché vi sia nutrita per mille duecentosessanta giorni. E vi fu battaglia in cielo. Michele e i suoi angeli combatterono col dragone, e il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero. E il luogo loro non fu più trovato nel cielo. E il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati gli angeli suoi. Ed io udì una gran voce nel cielo che diceva, ora è venuta la salvezza e la potenza e il regno dell'Idio nostro e la podestà del suo Cristo, poiché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, che li accusava dinnanzi all'Idio nostro giorno e notte. Ma essi l'han vinto, e a cagion del sangue dell'agnello, e a cagion della parola della loro testimonianza, e non hanno amata la loro vita, anzi, l'hanno esposta alla morte. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Guai a voi, o terra e mare, perché il diavolo è disceso a voi con gran furore, sapendo di non aver che breve tempo. E quando il dragone si vide gettato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figlio al maschio. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo dove è nutrita un tempo dei tempi e la metà d'un tempo lungi dalla presenza del serpente. E il serpente gettò dalla sua bocca, dietro alla donna, dell'acqua guisa di fiume, per farla portar via dalla fiumana. Ma la terra soccorse la donna, e la terra aprì la sua bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva gettato fuori dalla propria bocca. E il dragone si addirò contro la donna, e andò a far guerra col rimanente della progenie d'essa, che serba i comandamenti di Dio, e ritiene la testimonianza di Gesù. E si fermò sulla riva del mare. Apocalisse, capitolo tredicesimo E vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, e sulle corna dieci diademi, e sulle teste nomi di bestemmia. E la bestia che o vidi era simile a un leopardo, e i suoi piedi erano come di orso, e la sua bocca come bocca di leone, e il dragone le diede la propria potenza, e il proprio trono, e grande podestà. E io vidi una delle sue teste come ferita a morte, e la sua piaga mortale fu sanata, e tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia, e adorarono il dragone, perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia, dicendo, Chi è simile alla bestia, e chi può guerreggiare con lei? E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu data podestà di agire per quarantadue mesi, ed essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome e il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo, e le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli, e le fu data podestà sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione, e tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato, l'adorarono. Se uno ha orecchio, ascolti. Se uno mena in cattività, andrà in cattività. Se uno uccide con la spada, bisogna che sia ucciso con la spada. Qui sta la costanza e la fede dei santi. Poi vidi un'altra bestia, che saliva sulla terra, e aveva due corna come quelle d'un agnello, ma parlava come un dragone, ed esercitava tutta la podestà della prima bestia alla sua presenza, e facea sì che la terra e quelli che abitano in essa adorassero la prima bestia la cui piaga mortale era stata sanata, e operava grandi segni fino a far scendere dal fuoco del cielo sulla terra in presenza degli uomini, e seduceva quelli che abitavano sulla terra con segni che le era dato di fare in presenza alla bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine della bestia che aveva ricevuta la ferita della spada ed era tornata in vita. E le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, onde l'immagine della bestia parlasse e facesse sì che tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia, fossero uccisi, e faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi avesse il marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intendimento conti il numero della bestia, poiché è numero d'uomo. e il suo numero è seicento sessanta sei. Apocalisse capitolo quattordicesimo Poi vidi, ed ecco l'agnello che stava in piede sul monte Sion, e con lui erano centoquarantaquattro mila persone che avevano il suo nome e il nome del suo padre scritto sulle loro fronti. E udì una voce dal cielo come rumore di molte acque e come rumore di gran tuono, e la voce che udì era come suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe, e cantavano un cantico nuovo davanti al trono e davanti alle quattro creature viventi e agli anziani, e nessuno poteva imparare il cantico se non che quei quattrocentoquarantaquattromila, i quali sono stati riscattati dalla terra. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché son vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque va. Essi sono stati riscattati di fra gli uomini per essere primizi a Dio e all'agnello, e nella bocca loro non è stata provata menzogna, sono irreprensibili. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo recante l'Evangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitavano sulla terra, ed ogni nazione, tribù e lingua e popolo, e diceva con gran voce, temete i Dio e dategli gloria, poiché l'ora del suo giudizio è venuta, e adorate colui che ha fatto il cielo e la terra e il mare e le fonti delle acque. Poi un altro, un secondo angelo, seguì dicendo, caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni del vino dell'ira della sua fornicazione. E un altro, un terzo angelo, tenne dietro a quelli, dicendo con gran voce, se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, berrà anche egli del vino dell'ira di Dio mesciuto puro dal calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi e nel cospetto dell'agnello. E il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, e non hanno requie né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E udì una voce dal cielo che diceva, scrivi, Beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. E vidi, ed ecco una nuvola bianca e sulla nuvola assiso uno simile a un figliuolo d'uomo, che aveva sul capo una corona d'oro, e in mano una falce tagliente. E un altro angelo uscì dal tempio gridando con gran voce a colui che sedeva sulla nuvola, Metti mano alla tua falce e mieti, poiché l'ora di mietere è giunta, perché la messe della terra è ben matura. E colui che sedeva sulla nuvola lanciò la sua falce sulla terra, e la terra fu mietuta. E un altro angelo uscì dal tempio che è nel cielo, avendo anch'egli una falce tagliente. E un altro angelo, che aveva podestà sul fuoco, uscì dall'altare e gridò con gran voce a quello che aveva la falce tagliente, dicendo, Metti mano alla tua falce tagliente, e vendemmi ai grappoli della vigna della terra, perché le uve son mature. E l'angelo lanciò la sua falce sulla terra, e vendemmiò la vigna della terra, e gettò le uve nel gran tino dell'ira di Dio. E il tino fu calcato fuori della città, e dal tino uscì del sangue che giungeva sino ai freni dei cavalli, per una distesa di milleseicento stadi. Apocalisse, capitolo quindicesimo Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso. Sette angeli, che avevano sette piaghe, le ultime, poiché con esse si compie l'ira di Dio. E vidi come un mare di vetro e di fuoco, e quelli che avevano ottenuta vittoria sulla bestia e sull'immagine e sul numero del suo nome, i quali stavano in pie sul mare di vetro, avendo delle arpe di Dio. E cantavano il cantico di Mosè, servitore di Dio, e il cantico dell'agnello, dicendo Grandi e meravigliose sono le Tue opere, o Signore, i Dio onnipotente. Giusti e veraci sono le Tue vie, o re delle nazioni. Chi non temerà, o Signore, e chi non glorificherà il Tuo nome? Poiché Tu solo sei santo, e tutte le nazioni verranno e adoreranno nel Tuo cospetto, poiché i Tuoi giudizi sono stati manifestati. E dopo queste cose vidi il Tempio del tabernacolo della testimonianza fu aperto nel cielo. E i sette angeli che recavano le sette piaghe uscirono dal Tempio vestiti di lino puro e risplendente, e col petto cinto di cinture d'oro. E una delle quattro creature viventi diede ai sette angeli sette coppe d'oro piene dell'ira di Dio, il quale vive nei secoli dei secoli. E il Tempio fu ripieno di fumo a cagione della gloria di Dio e della Sua potenza, e nessuno poteva entrare nel Tempio finché fossero compiute le sette piaghe dei sette angeli. Apocalisse, capitolo sedicesimo E udì una gran voce nel Tempio che diceva ai sette angeli, Andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. E il primo andò e versò la sua coppa sulla terra, e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine. Poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare, ed esso divenne simile a sangue come di morto, ed ogni essere vivente che si trovava nel mare morì. Poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle fonti delle acque, e le acque diventarono sangue. E udì l'angelo delle acque che diceva, Sei giusto tu che sei e che eri, tu il santo che avevi giudicato. Hanno sparso il sangue dei santi e dei profeti, e tu hai dato loro a bere del sangue, essi ne son degni. E udì dall'altare che diceva, Sì, o Signore, i Dio onnipotente, i tuoi giudizi son veraci e giusti. Poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole, e al sole fu dato di bruciare gli uomini col fuoco, e gli uomini furono arsi da gran calore, e bestemmiarono il nome di Dio che ha podestà su queste piaghe, e non si ravvidero per dargli gloria. Poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia, e il regno d'essa divenne tenebroso, e gli uomini si mordevano la lingua per il dolore, e bestemmiarono il Dio del cielo a motivo dei loro dolori e delle loro ulceri, e non si ravvidero delle loro opere. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate, e l'acqua ne fu asciugata, affinché fosse preparata la via ai re che vengono dal Levante. E vidi uscire dalla bocca del dragone, dalla bocca della bestia, e dalla bocca del falso profeta, tre spiriti immondi simili a Arane, perché sono spiriti di demoni, che fan dei segni e si recano dai re di tutto il mondo per radunarli per la battaglia del gran giorno dell'iddio onnipotente. Ecco, io vengo come un ladro, beato colui che veglia e serba le sue vesti, onde non cammini in nudo, e non si vegano le sue vergogne. Ed essi li radunarono nel luogo che si chiama in ebraico Arga-Mageddon. Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria, e una gran voce uscì dal tempio, dal trono, dicendo, È fatto! E si fecero lampi e voci e tuono, e ci fu un gran terremoto tale, che da quando gli uomini sono stati sulla terra non si ebbe mai terremoto così grande e forte. E la grande città fu divisa in tre parti, e le città delle nazioni caddero, e Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle il calice del vino del furore dell'ira sua. Ed ogni isola fuggì, e i monti non furono più trovati, e cadde dal cielo sugli uomini una gragnuola grossa del peso di circa un talento, e gli uomini bestemmiarono il Dio a motivo della piaga della gragnuola, perché la piaga d'essa era grandissima. Apocalisse, capitolo, dicesettesimo E uno dei sette angeli, che avevano le sette coppe, venne, e mi parlò dicendo, Vieni, e io ti mostrerò il giudizio della gran merettrice, che siede su molte acque, e con le quali hanno fornicato i re della terra, e gli abitanti della terra sono stati inebriati dal vino della sua fornicazione. Ed egli nello spirito mi trasportò in un deserto, e io vidi una donna che sedeva sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia, e aveva sette teste e dieci corna. E la donna che era vestita di porpora e di scarlatto adorna d'oro e di pietre preziose e di perle, aveva in mano un calice d'oro pieno di abominazioni e delle immondizie della sua fornicazione, e sulla fronte aveva scritto un nome, Mistero, Babilonia la grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. E vidi la donna ebbra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù, e quando l'ebbi veduta, mi meravigliai di gran meraviglia. E l'angelo mi disse, perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia che porta, la quale ha sette teste e le dieci corna. La bestia che hai veduta era, e non è, e deve salire dall'abisso e andare in perdizione. E quelli che abitano sulla terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, si meraviglieranno vedendo che la bestia era e non è, e verrà di nuovo. Qui sta la mente che ha sapienza. Le sette teste sono monti sui quali la donna sede. E sono anche sette re. Cinque sono caduti, uno è, e l'altro non è ancora venuto, e quando sarà venuto ad adorar poco. E la bestia che era, e non è, è anch'essa un ottavo re, e viene dai sette, e se ne va in perdizione. E le dieci corna che hai veduto, sono dieci re, che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno podestà come re assieme alla bestia per un'ora. Costoro hanno uno stesso pensiero, e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Costoro guerreggeranno contro l'agnello, e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re, e vinceranno anche quelli che sono con Lui i chiamati, gli eletti e i fedeli. Poi mi disse, le acque che hai veduto e sulle quali siede la meretrice sono popoli e moltitudini e nazioni e lingue, e le dieci corna che hai vedute e la bestia odieranno la meretrice e la renderanno desolata e nuda e mangeranno le sue carni e la consumeranno col fuoco, poiché il Dio ha messo in cuor loro di eseguire il Suo disegno e di avere un medesimo pensiero, e di dare il regno alla bestia, finché le parole di Dio siano adempiute, e la donna che hai veduto è la gran città che impera sui re della terra. Apocalisse, capitolo diciottesimo. E dopo queste cose vidi un altro angelo che scendeva dal cielo, il quale aveva grande podestà, e la terra fu illuminata dalla sua gloria. Ed egli gridò con voce potente, dicendo, Caduta, caduta è Babilonia la grande, ed è divenuta albergo di demoni, e ricetto d'ogni spirito immondo, e ricetto d'ogni uccello immondo e abominevole. Poiché tutte le nazioni han bevuto del vino dell'ira della sua fornicazione, e re della terra han fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti con la sua sfrenata lussuria. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva, Uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate partecipi dei suoi peccati e non abbiate parte delle sue piaghe, poiché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo, e Dio si è ricordato delle iniquità di lei. Rendetele il contraccambio di quello che l'havia fatto, e rendetele al doppio la retribuzione delle sue opere. Nel calice in cui ha mesciuto ad altri, mescetele il doppio. Quanto ella ha glorificato se stessa ed ha lussureggiato, tanto datele di tormento e di cordoglio. Poiché, e la dice in cuor suo, io seggo regina, e non son vedova e non vedrò mai cordoglio. Perciò, in uno stesso giorno verranno le sue piaghe, mortalità e cordoglio e fame, e sarà consumata dal fuoco, poiché potente è il Signore e Dio che l'ha giudicata. E i re della terra che fornicavano e lussureggiavano con lei, la rimpiangeranno e faranno cordoglio per lei quando vedranno il fumo del suo incendio, e standosene da lungi per tema del suo tormento, diranno, Ai, ai, Babilonia, la gran città, la potente città, il tuo giudizio è venuto in un momento. E i mercanti della terra piangeranno e faranno cordoglio per lei, perché nessuno compra più le loro mercanzie, mercanzie d'oro, d'argento, di pietre preziose, di perle, di lino fino, di porpora, di seta, di scarlato, ed ogni sorta di legno odoroso, ed ogni sorta di oggetti d'avorio, ed ogni sorta di oggetti di legno preziosissimo, e di rame, e di ferro, e di marmo, e la cannella, e le essenze, e i profumi, e gli unguenti, e l'incenso, e il vino, e l'olio, e il fior di farina, e il grano, e i buoi, e le pecore, e i cavalli, e i carri, e i corpi, e le anime degli uomini. E i frutti, che l'anima tua appetiva, se ne sono andati lungi da te, e tutte le cose delicate e sontuose, sono perdute per te, e non si troveranno mai più. E i mercanti di queste cose, che sono stati arricchiti da lei, se ne staranno da lungi per tema del suo tormento, piangendo, e faranno cordoglio, dicendo, «Ai, ai, la gran città, che era vestita di lino fino, e di porpora, e di scarlatto, e adorna d'oro, e di pietre preziose, e di perle! Una cotante ricchezza è stata devastata in un momento!» E tutti i piloti, e tutti i naviganti, e i marinai, e quanti trafficano sul mare, se ne staranno da lungi, e vedendo il fumo dell'incendio, d'essa esclameranno, dicendo, «Qual città era simile a questa gran città?» E si getteranno della polvere sul capo, e grideranno, piangendo, e facendo cordoglio, e dicendo, «Ai, ai, la gran città, nella quale tutti coloro che avevano nave e mare si erano arricchiti con la sua magnificenza! In un momento ella è stata ridotta in un deserto! Rallegrati d'essa, o cielo, e voi santi ed apostoli e profeti, rallegratevi, poiché il Dio giudicandola vi ha reso giustizia!» Poi un potente angelo sellevò una pietra grossa come una gran macina, e la gettò nel mare, dicendo, «Così sarà con impeto precipitata Babilonia la gran città, e non sarà più ritrovata! E in te non sarà più udito il suono di arpisti, né di musici, né di flautisti, né di sonatori di tromba, né sarà più trovato in te artefice alcuno d'arte qualsiasi, né sudrà più in te rumore di macina, e non riluscerà più in te l'ume di lampada, e non sudrà più in te voce di sposo e di sposa, poiché i tuoi mercanti erano principi della terra, perché tutte le nazioni sono state sedotte dalle tue malie, e in lei è stato trovato il sangue dei profeti e dei santi e di tutti quelli che sono stati uccisi sopra la terra». Apocalisse, capitolo diciannovesimo Dopo queste cose udì come una gran voce ed un'immensa moltitudine nel cielo che diceva «Alleluia!» La salvezza e la gloria e la potenza appartengano al nostro Dio, perché veraci e giusti sono i Suoi giudizi, poiché Egli ha giudicata la gran merettrice che corrompeva la terra con la Sua fornicazione, e ha vendicato il sangue dei Suoi servitori, ridomandandolo dalla mano di lei. E dissero una seconda volta «Alleluia!» Il Suo fumo sale per i secoli dei secoli, e i ventiquattro anziani e le quattro creature viventi si gettarono giù e adorarono Dio che siede sul trono, dicendo «Amen!» «Alleluia!» E una voce partì dal trono, dicendo «Lodate il nostro Dio, voi tutti i Suoi servitori, voi che lo temete, piccoli e grandi!» Poi udì come la voce di una grande moltitudine, e come il suono di molte acque, e come il rumore di forti tuoni che diceva «Alleluia!» Poiché il Signore Dio nostro, l'Onnipotente, ha preso a regnare. Rallegriamoci e giubiliamo e diamo a Lui la gloria, poiché son giunta le nozze dell'agnello e la Sua sposa si è preparata, e le è stato dato di vestirsi di lino fino e risplendente e puro, poiché il lino fino son le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse «Scrivi, beati quelli che sono invitati alla scena delle nozze dell'agnello!» E mi disse «Queste sono le veraci parole di Dio, ed io mi prostraia ai Suoi piedi per adorarlo, ed egli mi disse «Guardati dal farlo! Io sono tuo conservo ed i tuoi fratelli che servano e che servano la testimonianza di Gesù. Adora i Dio!» Perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia, e i suoi occhi erano una fiamma di fuoco, e sul suo capo verano molti diademi, e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito d'una veste tinta di sangue, e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro, e dalla bocca gli usciva una spada affilata per percuotere con essa le nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e calcherà il tino del vino dell'ardente ira dell'onnipotente Dio. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome, Re dei Re, Signore dei Signori. Poi vidi un angelo che stava in piena il sole, ed egli gridò con gran voce, dicendo a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo, Venite, adunatevi per il gran convito di Dio, per mangiar carni di re, e carni di capitani, e carni di prodi, e carni di cavalli, e di cavalieri, e carni di ogni sorta d'uomini liberi e schiavi, piccoli e grandi. E vidi la bestia, e i re della terra, e loro eserciti radunati per muover guerra contro a colui che cavalcava il cavallo e all'esercito suo. E la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto i miracoli davanti a lei, coi quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia, e quelli che adoravano la sua immagine. Ambe due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, e il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalca il cavallo, e tutti gli uccelli si satollarono delle loro carni. Apocalisse, capitolo ventesimo Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo, e aveva la chiave dell'abisso, e una gran catena in mano. Ed egli afferrò il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per mille anni, e lo gettò nell'abisso, che chiuse e suggellò sopra di lui, onde non seducesse più le nazioni, finché fossero compiuti i mille anni, dopodiché egli ha da essere sciolto per un po' di tempo. Poi vidi dei troni, e a coloro che vi sedettero fu dato il potere di giudicare. E vidi le animi di quelli che erano stati decollati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorata la bestia nella sua immagine, e non avevano preso il marchio sulla loro fronte e sulla loro mano, ed essi ritornarono in vita e regnarono con Cristo mille anni. Il rimanente dei morti non tornò in vita prima che fossero compiuti i mille anni. Questa è la prima risurrezione. Beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. Sul loro non ha podestà la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con Lui quei mille anni. E quando i mille anni saranno compiti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro canti della terra, Gog e Magog, per adunarle per la battaglia. Il loro numero è come l'arena del mare. E salirono sulla distesa della terra e attorniarono il campo dei santi e la città di Letta, ma dal cielo discese del fuoco e le divorò. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Poi vidi un gran trono bianco, e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono terra e cielo, non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, i grandi e i piccoli, che stavano ritti davanti al trono. E i libri furono aperti, e un altro libro fu aperto, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le opere loro. E il mare rese i morti che erano in esso, e la morte e l'Hades resero i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. E la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Apocalisse, capitolo ventunesimo Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati, e il mare non era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scender giù dal cielo da presso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal trono che diceva, Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio, e asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, e la morte non sarà più, né ci saranno più cordoglio, né grido, né dolore, poiché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse, Ecco, io fo' ogni cosa nuova, ed aggiunse, Scrivi, perché queste parole sono fedeli e veraci. Poi mi disse, È compiuto. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, a chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose, ed io gli sarò Dio, ed egli mi sarà figliuolo. Ma quanto ai codardi, agli incredoli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri, e a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. E venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene delle sette ultime piaghe, e parlò meco, dicendo, Vieni, e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. E mi trasportò in spirito su di una grande ed alta montagna, e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo appresso a Dio, avendo la gloria di Dio. Il suo luminare era simile a una pietra preziosissima, acquisa di una pietra di diasporo cristallino. Aveva un muro grande ed alto. Aveva dodici porte, e alle porte dodici angeli, e sulle porte erano scritti dei nomi che sono quelli delle dodici tribù dei figliuoli di Israele. A oriente c'eran tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte, e ad occidente tre porte. Il muro della città aveva dodici fondamenti, e su quelli stavano i dodici nomi dei dodici apostoli dell'agnello. E colui che parlava, Meco, aveva una misura, una canna d'oro, per misurare la città, e le sue porte, e il suo muro. E la città era quadrangolare, e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna, ed era dodicimila stadi. La sua lunghezza, e la sua larghezza, e la sua altezza, erano uguali. Ne misurò anche il muro, ed era di centoquarantaquattro cubiti, a misura d'uomo, cioè d'angelo. Il muro era costruito di diasporo, e la città era d'oro puro, simile a vetro puro. I fondamenti del muro e della città erano adorni d'ogni maniera di pietre preziose. Il primo fondamento era di diasporo. Il secondo di zaffiro. Il terzo di calcedonio. Il quarto di smeraldo. Il quinto di sardonico. Il sesto di sardio. Il settimo di crisolito. L'ottavo di berillo. Il nono di topazio. Il decimo di crispazio. L'undicesimo di glascinto. Il dodicesimo da metista. E le dodici porte erano dodici perle, e ognuna delle porte era fatta ad una perla. e la piazza della città era d'oro puro, simile a vetro trasparente. E non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore, i Dio, l'Onnipotente, e l'Agnello sono il suo tempio. E la città non ha bisogno di sole né di luna che risplendino in lei, perché la illumina la gloria di Dio, e l'Agnello è il suo luminare. E le nazioni cammineranno alla sua luce, e i re della terra vi porteranno la loro gloria, e le sue porte non saranno mai chiuse di giorno, la notte qui vi non sarà più. E in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni. E niente di immondo e nessuno che commetta abominazione o falsità ventreranno, ma quelli soltanto che sono iscritti nel Libro della Vita dell'Agnello. Apocalisse, capitolo ventiduesimo. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della Vita, limpido come cristallo, che procedeva dal trono di Dio e dell'Agnello. In mezzo alla piazza della città e da ambo i lati del fiume stava l'albero della Vita, che dà dodici raccolti e porta il suo frutto ogni mese, e le fogli dell'albero sono per la guarigione delle nazioni, e non ci sarà più alcuna cosa maledetta, e in essa sarà il trono di Dio e dell'Agnello, e i Suoi servitori li serviranno, ed essi vedranno la sua faccia e avranno in fronte il suo nome, e non ci sarà più notte, ed essi non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché li illuminerà il Signore Dio, ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Poi mi disse, queste parole sono fedeli e veraci, e il Signore, l'iddio degli spiriti e dei profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai Suoi servitori le cose che debbono avvenire in breve. Ecco, io vengo tosto, beato chi serba le parole della profezia di questo libro. Ed io, Giovanni, sono quello che udì e vidi queste cose, e quando le ebbe udite e vedute mi prostrai per adorare ai piedi dell'angelo che mi aveva mostrato queste cose. Ma egli mi disse, guardati dal farlo, io sono tuo conservo e dei tuoi fratelli, i profeti e di quelli che servono le parole di questo libro, adora i Dio. Poi mi disse, non suggellare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Chi è ingiusto, sia ingiusto ancora. Chi è contaminato, si contamini ancora. Chi è giusto, pratichi ancora la giustizia, e chi è santo, si santifichi ancora. Ecco, io vengo tosto, e il mio premio è meco per rendere a ciascuno secondo che sarà l'opera sua. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati coloro che avevano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri, e chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice, la progenie di Davide, la lucente stella mattutina. E lo spirito e la sposa dicono, Vieni! E chi ode dica, Vieni! E chi ha sete venga, e chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io lo dichiaro a ognuno che ode le parole della profezia di questo libro. Se alcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai Suoi mali le piaghe descritte in questo libro. E se alcuno toglie qualche cosa delle parole del libro di questa profezia, e Dio gli torrà la sua parte nell'albero della vita e della città santa, delle cose scritte in questo libro. Colui che attesta queste cose dice, Sì, vengo tosto. Amen. Vieni, Signor Gesù. La grazia del Signor Gesù sia con tutti. Grazie. Grazie. Grazie.